Mi scusi signore, eh? Ma che c'è che i pregabelli? Se so mai! Ma che cosa è una foccina? Eh ma quelle foccine questi ce aprono, fanno tutto. Scusi tanto signore, eh? Oh, ma chi inca? Non so, devo cercare, scusa. Infatti ho trovato questo, fai te. Ma non puoi fare, tu non lo vedi che sono impegnato? Stai calmo! Perché lui si scoppa con me, perché Maria Iepena, capito? Ma non è cadendo qua dentro, ho scoperto, ma non è un po' complicato. A coppia scoppiata, da anni si incontra clandestinamente per una insensata ultima notte d'amore, prima di suggellare il divorzio definitivo. Ma gli imprevisti sono dietro l'angolo, anzi, dietro la porta. Cuori scatenati di Diego Ruiz, una godibile commedia, piena di doppi sensi, di modi di dire e, appunto, di gag. La bravura di quattro attori, Francesca Nunzi, Sergio Muniz, Maria Lauria e, appunto, Diego Ruiz sul palcoscenico condiscono il tutto per il successo di questa commedia al Teatro Ghione fino al 29 gennaio. Vai la prima andare al teatro. brava! Grazie.